Leonardo Silva Revisore Sono emozionata come in un primo giorno di scuola, perché per chi insegna ogni giorno è come il primo, perché bisogna conquistarsi le persone che si hanno davanti. E io con che diritto vi posso togliere dieci minuti di oggi pomeriggio? Solo perché spero di potervi raccontare qualcosa che possa avere un senso. Parlando di scuola tutti sono capaci di dire qualcosa, perché ho un insegna, ho la moglie che insegna, ho un figlio che va a scuola, ho un nipote che va a scuola e poi tutti siamo stati a scuola. La diamo per scontata la scuola. Ma la scuola è un luogo dove possono accadere delle cose belle o delle cose talmente annoianti, annoianti, da convincere a cambiare rotta, magari a lasciare la scuola. Che cosa può rendere le ore di scuola delle ore affascinanti, interessanti, che aiutano a mettere a frutto quel che ogni bambino, ogni ragazzo è. Perché ogni bambino, ogni ragazzo possa prendere la strada della vita. Perché queste ore possono avere un senso per aprire un orizzonte. che mi ha colpito moltissimo. Un bel po' di anni fa, una ragazza, nella stazione Termini, si suicida e lascia questo biglietto ai genitori. Perdonatemi, mi avete dato tutto. Mi avete dato il necessario, il superfluo, ma non l'indispensabile. Ecco, io da quel giorno, tutte le volte che ho guardato in faccia negli adolescenti e poi quando ho visto crescere i miei figli, ho sempre avuto in mente quel biglietto. che cos'è l'indispensabile che serve per valorizzare e godersi il dono della vita? Ma cosa c'entra questa domanda così grande con la scuola? Vi racconto un altro fatto. Più o meno 15 anni fa, una mia alunna, Tullia, che adesso è medico e ortopedico, a 15 anni, una ragazza piena di vita, di quelle che rompono le scatole perché alzano sempre il braccio e fanno sempre tante domande, chiede urgentemente un appuntamento e mi viene a parlare. Si siede davanti a me e, con i suoi occhi acuti di quelli che ti penetrano, mi chiede, prof, io ho fatto un conto. Ho calcolato che ogni anno io passo a scuola mille ore, che sono 30 ore la settimana, 33 settimane, sono più o meno mille ore. Il pomeriggio, in media, due ore e mezzo di studio. Quindi ogni anno io dedico la scuola più o meno 1500 ore della mia vita. Faccio una moltiplicazione, tre anni di asilo, cinque anni di elementari, tre anni di medie, cinque anni di liceo. Ma sono migliaia e migliaia di ore della mia vita. Se fossero ore da buttare via, senza senso, io perderei la mia vita venendo qua. Ma perché devo studiare? Io non potevo non prendere sul serio questa domanda e le ho detto. Cara Tullia, scuola deriva da scolè, che in greco vuol dire tempo libero. Tu non ci potrai credere. Perché una volta erano pochi i bambini e i ragazzi che avevano la possibilità di non lavorare e di dedicarsi allo studio, alla conoscenza, all'imparare. Però, come tutti i doni, occorre saperli valorizzare. Occorre capire che senso ha un dono che ti viene fatto. Occorre scartarlo, un dono, per capire che cosa c'è dentro. Ecco, qual è il senso delle mille ore di scuola che i nostri studenti fanno ogni anno? Pensate che in Italia ci sono sette milioni e mezzo di studenti che ogni mattina varcano le soglie delle scuole. Ottocentomila insegnanti che stanno con loro. Sono miliardi di ore di vita che dovrebbero essere piene di senso di quella scoperta, questo è il cuore della scuola, di quella scoperta di sé della realtà, del vero, del bene, del bello che sono nascosti dentro il reale. Dentro la scuola passano tanti mondi. Lo scopo della scuola non è studiare dei libri. Attraverso le discipline, la fisica, la matematica, la filosofia, le scienze, l'italiano, noi entriamo in rapporto con la realtà. Attraverso tutto quel patrimonio di lavoro, di conoscenza e di esperienza che altri ci hanno regalato. Perché noi li possiamo rinventare. noi insegnanti con i ragazzi. Questo è il tono che dovrebbe avere ogni ora di lezione. È per questo che all'inizio dell'anno ho deciso di portare tutti i miei studenti a bordo del Voyager. Avrei voluto farlo veramente, ma era impossibile, troppo costoso. E li ho semplicemente portati in palestra a vedere quel filmato straordinario in cui gli astronauti vedono in fondo allo spazio emergere, come un piccolo puntino, la Terra. E la vedono sorgere. E loro, invece di prendere delle misure, cominciano a dire, che bello! Ecco, questa domanda che fai tu l'uno in Cielo è la stessa domanda del pastore del canto notturno di Leopardi. Questo è quello che ho voluto far capire ai miei ragazzi anche quest'anno. dentro la scuola si entra per aprirsi al mondo e alla realtà, per scoprire sé. E in questo rapporto tra docenti e studenti, tra passato e presente, si costruisce il futuro. Fisica in moto, il laboratorio che sette anni fa ho collaborato a far aprire in Ducati, che sfrutta l'attrattiva della moto per spiegare il senso delle leggi della fisica, nasce da questa passione, dalla passione di imprenditori, di tecnici, di ingegneri, di insegnanti, che sanno che non c'è niente di più assurdo che una risposta a una domanda che non si pone. Ogni giorno noi dobbiamo scommettere sul fatto che davanti a noi ci sono dei ragazzi che hanno questo desiderio di vero, di bene, di bello, di compimento, di felicità, questo desiderio di capire, anche se è sepolto da mille detriti, e studiare mille strade per farlo. Lunedì scorso, il 13 ottobre, in Ducati e Lamborghini abbiamo aperto un quarto anno di istituto professionale per ragazzi che avevano smesso di andare a scuola. Sono 44 ragazzi che avevano deciso di lasciare e hanno deciso di ricominciare ad andare a scuola facendo un percorso integrato tra studio e lavoro. Sapete cosa hanno scritto nei post-it che gli abbiamo dato il primo giorno? Un post-it per scrivere che cosa porti a questo progetto. hanno scritto curiosità, passione, voglia di innovare, stupore, voglia di collaborare, responsabilità. Ed erano ragazzi che avevano lasciato, che non lavoravano e non studiavano. I famosi NET, quelli che non sembra più possibile raggiungere. Ecco, è possibile raggiungere tutti. Perché esiste questo grande catalizzatore che è il desiderio. E noi è questo che dobbiamo accendere, dobbiamo incrociare. Ed è la grande rivoluzione che deve accadere a scuola e può accadere senza nessuna legge. Perché da domani mattina io posso andare a scuola con questo desiderio di scoprire il vero, il bene e il bello che c'è dentro la realtà insieme ai miei alunni e insieme ai miei colleghi. E questo è semplice. È semplice come aprire la finestra e guardare che c'è il cielo. Grazie. Elena, Elena, Elena. Elena Ugolini, bravissima. Grazie, ciao.